Buongiorno da FT Online, borsa sulla parità questa mattina a Fuzzimib infatti in guadagno dello 0,10%, siamo poco oltre 22.300 punti, con i massimi di questa mattina i prezzi hanno cercato di superare i massimi di fine novembre, siamo quindi in una situazione abbastanza delicata, la rottura dei massimi di fine novembre, quindi il superamento di area 22.4 sarebbe un segnale di forza incoraggiante anche per il medio termine, fino a che rimarremo al di sotto di quei livelli, tuttavia ci sarà il rischio di una nuova fase ribassista anche estesa. Per capire questo tipo di affermazione bisogna fare riferimento alla teoria delle onde di Elliot, secondo Elliot infatti le correzioni si possono sviluppare in due modi e normalmente lo fanno in tre segmenti, ipotizziamo che dopo il rialzo si sviluppi una fase correttiva come quella che stiamo vivendo adesso, torniamo al grafico che stavamo guardando in precedenza, ecco qui abbiamo avuto il nostro rialzo che è terminato con i massimi di fine novembre, poi una fase ribassista che ci ha portato fino ai minimi del 21 dicembre e poi una nuova fase di rialzo, quindi questa sarebbe la nostra fase ribassista fino ai minimi del 21 dicembre e poi una fase di rialzo che ci ha portato a toccare i precedenti massimi. Secondo la teoria delle onde di Elliot molto spesso le correzioni si sviluppano in tre segmenti e quindi dato questa area come l'origine della fase della correzione, qui avremmo il termine del primo segmento e qui il termine del secondo, quindi ci sarebbe il rischio dell'avvio di una nuova fase ribassista con un terzo segmento che probabilmente potrebbe limitarsi a ritracciare il 100% del movimento precedente e quindi riportarci sui minimi di dicembre. In alcuni casi c'è anche il rischio che il terzo segmento che viene identificato col nome di onda C estenda, quindi nella teoria delle onde di Elliot in realtà questi segmenti hanno un nome che sono onda A, onda B e onda C e l'onda C come dicevamo a volte può anche estendere e quindi andare oltre il minimo di onda A. Per il momento potremo essere in questa situazione come abbiamo detto e che cosa ci dirà se non siamo ancora in una fase correttiva ma è ripreso il termine rialzista ci dirà il superamento dell'origine del movimento. In realtà si possono anche verificare delle situazioni dove il flat, questa figura qui secondo la teoria delle onde di Elliot viene denominata flat, ci sono delle situazioni in cui il flat può essere irregolare, quindi l'onda centrale può anche estendere un po' oltre l'origine del movimento e poi lo stesso ci può essere una fase ribassista, quindi si può completare poi lo stesso con un'onda C, però diciamo che questa è una situazione particolare, quindi stando nella logica delle cose dovremmo essere abbastanza tranquilli con il superamento dei massimi che prezzi abbiamo toccato a fine novembre, dovremmo essere abbastanza tranquilli che la tendenza è ripresa, questo è il grafico giornaliero del nostro Fuzzimib, quindi se dovessimo riportarci al di sopra di area 22.4 avremmo una buona prospettiva per vedere i prezzi che salgono almeno fino a ricoprire questo gap, c'è un gap precedente che è quello del 28 febbraio, il lato alto di questo gap è a 22.480 punti circa, quindi magari in caso di superamento di 22.4 si può attendere anche la rottura di 22.480 prima di confermare l'avvio di strategie a rialzo che non siano limitate solo all'intraday, quindi questa sarebbe la nostra situazione che abbiamo descritto in maniera schematica, questo era il nostro rialzo e questa sarebbe la nostra fase correttiva. Ora, quello che sarà interessante capire è se i prezzi riusciranno a lasciarsi alle spalle o meno questa linea orizzontale, se lo faranno sicuramente avremo una buona prospettiva di rialzo, se invece questa resistenza non dovesse venire oltrepassata ci sarebbe il rischio, come abbiamo detto, di vedere un ribasso che potrebbe terminare sul minimo di dicembre a 21.087 ma potrebbe eventualmente anche estendere al di sotto di quei livelli. Lo stesso tipo di ragionamento lo possiamo applicare, quindi oltre che al nostro indice Fuzimib, anche agli indici settoriali. Oggi sono le banche un po' in difficoltà, quindi volevo guardare con voi l'andamento dell'indice stocks delle banche. Lo troviamo come quotazione qua, basta scrivere lo stocks banks e trovate la pagina relativa al mercato. Vedete, questa mattina è in calo dello 0,73% intorno ai 74,30€. Scusate, quello che stavamo guardando era la pagina dell'Eurostoxbank e invece noi vogliamo lo stocks bank. quindi dobbiamo cambiare la ricerca, eccolo qua. Vedete, è in calo anche in questo caso al 0,7% a 74,30€ circa. Quindi recuperiamo il grafico corretto, finalmente sono riuscito a recuperare il grafico dell'Eurostoxbank. Non cambia, sostanzialmente le due curve sono sovrapponibili, quindi ovviamente quello stocks include anche alcuni titoli che non sono solo sul mercato dell'Euro, quindi principalmente titoli del mercato inglese, ma come vedete le due curve sono sostanzialmente equivalenti, quindi perdonatemi questo piccolo inconveniente, però ecco vedete le due curve sono sostanzialmente comparabili. Passiamo adesso quindi a guardare l'Eurostoxbank, ma da un punto di vista grafico non ci sono differenze, notiamo che i prezzi sono saliti intorno al 50% di ritracciamento del ribasso dal massimo di inizio anno, su quei livelli si era anche disegnato un test a spalle ribassista, che poi è stato messo in discussione dal momento che le quotazioni sono ritornate al di sopra della neckline della figura, quindi questo di solito è un segnale che la figura, diciamo, perde di credibilità, non viene del tutto cancellata perché viene in realtà cancellata solo con il superamento dei suoi massimi, ma la figura perde con il ritorno del sopra della neckline, che sarebbe questa linea di credibilità. Se consideriamo però il fatto che le quotazioni sono appunto sul 50% di retracement di tutta la discesa precedente, resta questa un'area decisamente critica per il mercato. il fatto che ci sia questa difficoltà nell'andare oltre l'area 75-76 per quello che riguarda l'Eurostoxbank e invece l'area 2-15 per quello che riguarda lo Stoxbank, ovviamente è un elemento che qualche preoccupazione la introduce. Notiamo che con il rimbalzo che c'è stato negli ultimi mesi, è stato ritracciato non il movimento intero, ma solo una parte del movimento precedente, quindi probabilmente vuol dire che rimanendo sempre con la teoria delle onde di Elliot, non siamo in questa situazione che Elliot definisce flat, ma in una potenziale correzione di tipo diverso che la teoria delle onde di Elliot individua come un potenziale zigzag, quindi anche qui dopo una fase rialzista abbiamo un ribasso che è la prima parte della correzione, poi un ritracciamento parziale del movimento precedente, quindi non completo che si limita a ritracciare tra il 50% e il 60% del movimento precedente e c'è il rischio dopo che parta una nuova fase ribassista, quindi in questo caso come vedete il movimento non è più contenuto all'interno di due linee parallele orizzontali, ma è contenuto all'interno di un canale discendente dove attualmente potremmo essere in questa condizione, quindi nella parte centrale della intera correzione. Il fatto che per entrambe le due situazioni si parli di un movimento correttivo, quindi di una fase che si contrappone al movimento precedente, anche se sono di natura diversa, uno è un flat e uno è uno zigzag, confermerebbe l'ipotesi che la fase è una correzione. Se i prezzi dovessero superare area 76, 80 per quello che riguarda l'Eurostox Bank, ci sarebbe la possibilità di vedere un ritorno nella parte alta del nostro range con il test del massimo in febbraio, se invece rimaniamo al di sotto di questa zona c'è il rischio di assistere fin da subito a una nuova fase ribassista, quindi per capire cosa accadrà alle banche vi suggerisco di guardare con attenzione questo indice e concentrarvi su quello che succederà in questo range tra i 75 e gli 80 Euro circa. Situazione molto simile anche per quello che riguarda il settoriale delle telecomunicazioni, in questo caso guardiamo quello stocks e quindi con anche i titoli del mercato inglese, anche qui vedete c'è stato un movimento che ha permesso di ritracciare solo una porzione del movimento di ribasso precedente con i massimi che sono stati toccati a giugno, infatti è stato ritracciato il 61,8% del movimento precedente, poi c'è stata questa lunga fase laterale che ancora non è terminata e che non ha sostanzialmente aggiunto niente di nuovo in tutti questi mesi rispetto a quello che avevamo visto nella prima parte dell'anno, perché solo se dovessero salire di sopra di questa resistenza verrebbe inviato un segnale in favore del proseguimento del rialzo, in quel caso sì sarebbe un elemento nuovo molto interessante perché permetterebbe di puntare al ritorno sui massimi di inizio anno, quindi avremo in quel caso una situazione che si svilupperebbe in questo modo, fino a che invece la resistenza data dai massimi di giugno non verrà superata c'è il rischio di assistere ad una nuova fase calante che potrebbe anche essere estesa e quindi riportarci sui minimi di inizio anno. Se andiamo a guardare l'andamento del titolo Telecom Italia nei confronti del nostro settoriale ci accorgiamo che le similitudini sono molto marcate, praticamente le due curve sono sovrapponibili, se volete le metto anche per semplicità di consultazione sullo stesso grafico, vedete praticamente le due curve sono sovrapponibili, quello che può essere interessante fare è valutare la situazione della forza relativa del nostro titolo Telecom Italia con l'indice che stavamo guardando che era lo Stox Telecom e vedete anche in termini di forza relativa non ci sono grosse cose da dire perché negli ultimi mesi questa curva è sostanzialmente laterale, quindi vuol dire che il titolo e l'indice in termini di performance sono abbastanza sovrapponibili, questa è la retta di regressione che riguarda l'andamento degli ultimi mesi quindi la tendenza statistica della forza relativa è sostanzialmente orizzontale, c'è una marginale tendenza positiva quindi vuol dire che negli ultimi mesi a partire dai minimi di marzo marginalmente Telecom ha sovraperformato in media il comparto ma di certo non è una situazione di particolare benessere per quello che riguarda il titolo anche qui se andiamo a scomodare i ritracciamenti ci accorgiamo che i prezzi si sono limitati addirittura in questo caso non è neanche al 50% ma al 38,2% di tracement del movimento precedente e quindi fino a che Telecom rimarrà di sottodiare a 0,40 e 50, 0,41 c'è poco da dire, il rischio che questo sia solo l'intermezzo di una fase correttiva più complessa è abbastanza elevato quindi il rischio di essere in questo tipo di situazione potremmo avere visto negli ultimi mesi il titolo che si è mosso nella porzione centrale di una correzione di tipo zigzag sopra 0,41 invece le cose cambierebbero con la chiusura di seduta oltre quei livelli perché vi faccio notare che 0,41 è già stata toccata come resistenza in più occasioni negli ultimi mesi ma non c'è mai stata una chiusura di seduta, anzi la più alta che possiamo registrare probabilmente è questa del 27 d'agosto a 0,40 e 17 perché poi il 27 novembre ha fatto 0,40 e 12 comunque diciamo che già una chiusura di seduta sopra 0,40 e 20, 0,40 e 30 sbloccherebbe la situazione in favore del rialzo fino a quel momento invece il rischio di assistere ad una nuova fase ribassista anche estesa rimarrà elevato in ultima cosa rispondo alla domanda che mi è stata fatta in merito all'analisi di ieri dove avevamo parlato del put correction, mi hanno chiesto dove è possibile ricavare la quotazione giornaliera di questo indicatore, basta scrivere total put correction nel vostro motore di ricerca e vedete che trovate subito il riferimento ad esempio quello relativo alla seduta di ieri era un valore di 0,72 quindi se vi ricordate ieri dicevamo che 0,80 più o meno è il valore d'equilibrio in questo momento siamo leggermente sbilanciati in favore delle opzioni call quindi un mercato che è leggermente sbilanciato al rialzo vi ringrazio l'attenzione, vi auguro buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero